Ciao a tutti, dopo una pausa estiva di tre settimane torno live con i Queen Essence Oggi è il primo settembre 2023 e suoneremo nuovamente allo Spritzenburger di Albino Speriamo di ricordarmi come si suonano i Queen Eccoci arrivati ad Albino e stando attenti ai ciclisti, arriveremo alla location Ok siamo arrivati, qui c'è, dopo le ferie chi è più abbronzato? Io un po' che l'ho finito, non c'è più finito, non c'è più qualche giorno Siamo contenti di essere tornati e di ricominciare la nostra stagione, o meglio il fine stagione Dai, fine estate, qui a Albino, allo Spritzenburger che abbiamo già visto di recente Dicevo, speriamo di ricordarci come si suonano i Queen Vabbè, non so, non so se... Ragazzi, Queen Essence International Non so se è avverso ai social, ma qui c'è Francesco Alla batteria che oggi rimpiazzerà quel vecchiaccio di Ferranti E arriva direttamente da Genova per suonare con noi Quindi un grande bocca al lupo a Francesco Grazie La Red Special che non prende aria da un po' Come on, parla in inglese Abbiamo il nostro Stucchi Stavo dicendo, l'Nink Ok Tu hai problemi per andare a YouTube Non ho più riscopteria Ah, tu puoi vedere che ho problemi, no? Molti problemi, molti problemi Non c'è, molti problemi Mi piace la forma che ti amico Ti muovi Ah, non c'è Dai, dico cosa, come on Where are you from? In the Netherlands In the Netherlands Specificatamente non si dice Chi? Specificamente? Specificamente Laia Laia Suona nei The Watch Che sono Una tribute europea Grande Forse vanno anche oltre l'Europa Ai Genesis Bravissima E quindi immagino che abbia conosciuto Ma pensa, non lo sapevo Sono in tour ragazzi Fino a maggio Hanno già giù le date Andate su Ticket One Che ci sono pochissime date italiane The Watch Tributo Genesis E il grande Francesco quindi Sono troppo contento Bene, bene Hai capito Con chi mi troverò a suonare stasera Intanto procedono le lezioni in inglese Vabbè Vabbè Cassarula Charlie Grazie a tutti Ok Mi fai il top Ma come sei bello Sono bello con la luce Con i capelli Con il tramonto Ti sparrassati Come dicono i romani Prova sì Prova sì Dimmi Capra un pezzo Eccoci Nuovamente sul serio Come l'altra volta Perché io sono sempre Un ragazzo serio Scusate Mi piace Guardate Sono le campane Oggi l'acqua è un po' più Statica Dell'altra volta Mi piace Insomma farvi vedere Come si trova il serio Ogni volta Quindi Scherzi a parte E' veramente carino Qua Fresco Si sta bene Stasera sogniamo E' finito il soundcheck Il sole si sta abbassando Le campane suonano I uccellini cinguettano E iscrivetevi al mio canale Dai E' semplice Vedi anche il cane l'ha detto Praticamente pochissimo Perché abbiamo due mezze L'abbiamo portato Purtroppo C'erano anche offerte Però vabbè Lui Dice Io preferisco avere Un altro E chi è che scrive? Scrive Un panzerotto fritto Da quando avevo 14 anni L'ho visto Io ho pagliuto più Sto non lo mangio D'altro ieri Non si parla Con la bocca piena Teoricamente si Anche perché è un po' umido Quello che è più importante È quello 1,2,3 4,4 4,4 Dopo i 3 Che tira C'è un lumidino ragazzi Che la scaletta A metà serata Sarà nera Andiamo a prendere il caffè? Cos'è che hai detto? Andiamo a prendere il caffè? Ma perché pensi Sempre al caffè? Ma perché? Ma perché che è il caffè? proprio boomer che siamo dei boomer abbiamo bisogno di un po' di carica a glass of wine, that shows the wind, no more of a billion could be the same devocations inside the night, torn in jeans and tools of town Poorene di sing come chani e alte meno fenassale suolante Si riesca anche se fai la prima giga Oh oh Grazie a tutti 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 Grazie a tutti